L'estate bussa le porte e sulla soglia Francavilla al mare pone i fiori e le fragole. Sabato 14 e domenica 15 maggio andrà in scena la settima edizione di Francavilla, fiori e fragole, la manifestazione volta a promuovere le eccellenze del territorio. Perché Francavilla non è solo mare, ma anche colline e contrade, ha spiegato la prima cittadina. È una manifestazione alla quale tango in particolar modo sia perché dà il segnale della volontà di destagionalizzare il turismo, perché siamo al mese di maggio e partiamo con una manifestazione che porterà a Francavilla tantissime persone e quindi andiamo verso la volontà proprio di allungare la stagione turistica. E comunque è fondamentale per promuovere i nostri prodotti, le nostre terre, fiori e fragole. Francavilla non è solo mare, ma è anche colline e contrade. E quindi sarà bellissimo svolgere questa manifestazione, sì sul lungomare, affacciandosi sul mare, ma mostrando e vendendo i prodotti alla nostra terra. Francavilla, fiori e fragole dunque torna dopo due anni di stop dovuti alla pandemia. Parte della manifestazione è l'iniziativa Balconi Fioriti. Fino a luglio i cittadini sono chiamati a rendere Francavilla più colorata e profumata, decorando balconi, davanzali, aiuole e giardini. Un concorso voluto per invitare tutti i cittadini a rendere più bello un pezzetto della nostra città. Se ognuno di noi fa la propria parte, abbellendo i propri balconi, sicuramente la città andrà verso quel maggior decoro di cui io sempre parlo tanto e tutti insieme possiamo fare la differenza.